buonasera a tutti benvenuti o ben ritrovati sul mio canale come eravamo rimasti nell'ultimo video del ciondolo in collaborazione con la bbcraft vi avevo anticipato che c'era in lavorazione anche il bracciale il bracciale è fatto con questo modulino qui che abbiamo già fatto nel ciondolo o orecchini in base all'utilizzo che volevate farne era un modulo più grande che poteva essere usato per entrambe le cose e io mi sono portata avanti con il lavoro anche perché appunto questa parte l'avevamo già vista insieme e questa sera vi faccio praticamente vedere come unire i modulini e andremo poi a fare insieme una decorazione sui bordi laterali in modo anche da andare poi a nascondere questi fili che si vedono nella congiunzione allora io volevo innanzitutto chiedere scusa a tutte le persone che seguono il mio canale perché purtroppo non riesco ad essere attiva come vorrei tutto questo ha una motivazione dietro e ho dei problemi di salute e da luglio che vado avanti ad avere un sacco di problematiche problematiche legate un po a tutto adesso facendo degli accertamenti esami su esami su esami esami del sangue ecografie scintigrafie chi più ne ha più ne metta ho perso il conto di quanti soldi ho speso in visite negli ultimi tre o quattro mesi finalmente siamo riusciti a capire qual è il problema praticamente ho una denoma di plumer alla tiroide che rientra nella categoria fortunatamente dei tumori benigni alla tiroide però ovvio non è una cosa da prendere alla leggera purtroppo invece di far lavorare la tiroide lavora questo nodulo questa forma questa formazione che ho nel collo e continua a produrre ciò che dovrebbe produrre all'occorrenza la tiroide quindi ho un sovralavoro a tutto il mio organismo e perciò non riesco a fare tutto ciò che voglio ma soprattutto non riesco a farlo quando voglio perché questa cosa mi vincola abbastanza ora ho iniziato la terapia per due mesi farò questa terapia con delle pastiglie a inizio anno rifarò gli esami e se la cosa è migliorata bene si prova a continuare con una terapia di mantenimento altrimenti dovrò fare un piccolo intervento e andare a risolvere in maniera radicale questo questo piccolo intoppo della vita ci tenevo a dirvelo perché sembra che poi uno non lo so non fa le cose perché non ha voglia non fa le cose perché per altri 3000 motivi io di voglia ne avrei tanta ma purtroppo il mio il mio fisico non regge i ritmi di tutto lavoro casa hobby chi più ne ha più ne metta e devo cercare di stare tranquilla riposarmi il più possibile e quindi piano piano le cose però si fanno perché le voglio fare soprattutto perché mi fa sentire meglio farle non si sta con la testa diciamo sulle problematiche comunque detto questo allora come vi dicevo il modulino questo qui centrale è lo stesso del ciondolo dell'altra volta quindi lo spiegherò molto molto brevemente la sequenza iniziale è fatta da due perle d'acqua scusatevi dico almeno i materiali forse allora perle da 4 mm rocaille 80 rocaille 15 0 rocaille 11 0 perline super 2 ovviamente ago e filo da tessitura ago numero 11 se avete il 12 meglio ancora come vi avevo già detto nell'altro video e poi ovviamente una chiusura per bracciali a vostra scelta io ho scelto questa perché in questo modo posso andare ad aggiungere degli anellini eventualmente se la misura non andasse bene per la cliente allora dicevamo due perle da quattro e una perla da otto è una rocaille da otto scusate alternate per quattro volte quindi questo è quello che noi avremo sul filo ora portiamo giù andiamo a a cerchio ripassando dentro tutte le perle e perline e ci andiamo a fare un paio di nodini per fissare il lavoro allora come per il modulo precedente ci portiamo ad uscire da una 80 prendiamo sul lago 6 15 0 usciamo da questa 80 entriamo in quella successiva quindi saltiamo semplicemente le perle da quattro e andiamo direttamente nella 80 successiva adesso parmi sia anche ingarbugliato il filo ma che simpatico questo filo ok incidenti di percorso si chiamano e ce le portiamo all'interno in questo modo e andiamo a fare questo archetto da 6 rocaille 15 0 anche qui sotto le altre perle una volta fatti gli archetti ci portiamo ad uscire praticamente nel centro del primo archetto di 15 0 quindi attraversiamo le prime 3 15 0 questo filo stasera fa i capricci un po come me ok prendiamo un'altra 15 0 e entriamo nelle 3 15 0 successive ma ripeto questi passaggi li abbiamo già visti anche nell'altro tutorial e tiriamo il filo saltiamo da 80 ci inseriamo nelle 3 15 0 successive 1 2 e 3 in questo modo prendiamo un altro 15 0 e rientriamo nelle altre 3 15 0 dell'archetto se magari ce la facciamo ok e voilà e andiamo a fare questo anche negli altri due una volta fatti anche gli altri due archetti cioè le altre due puntine negli archetti saltiamo sempre la 80 ci ri inseriamo nelle prime 3 perline dell'archetto successivo soltanto nelle prime 3 saltiamo quella centrale che abbiamo appena messo e rientriamo nelle altre 3 così andiamo a far rimanere bene bene la puntina nel nostro archetto e questo anche l'avevamo già fatto nell'altro video ok quindi continuiamo questo passaggio rientriamo nelle prossime 3 15 0 saltiamo quella centrale e continuiamo così per gli altri archetti rimanenti una volta terminato il passaggio ci portiamo praticamente stiamo uscendo poi da queste 3 15 entriamo qui nella 8 ed entriamo anche nella perla da 4 prendiamo una super 2 e attraversiamo per la 80 per la un'altra super 2 e attraversiamo di nuovo per la 80 e perla a questo punto ci andiamo ad unire con il modulino precedente allora il modulino iniziale è fatto nello stesso identico modo l'unica cosa che cambia e che come potete vedere in questo angolo si mette una 11 0 si passa all'interno di perla 80 si fa il cappiolino che io ho fatto con 6 11 0 lo si ripassa un paio di volte si attraversa la perla una 11 0 e poi si fa il giro di rinforzo come abbiamo visto anche l'altra volta nei modulini questi che andiamo ad unire invece non mettiamo le 11 0 questa è l'unica differenza che c'è tra il modulino iniziale e quelli che facciamo poi durante il bracciale allora adesso stiamo uscendo dalla perla da 4 qui nell'angolo entriamo nella super duo del modulino precedente dall'esterno verso l'interno ok entriamo nella seconda perla da 4 e nella 80 e tiriamo il filo prendiamo una 11 0 e entriamo da sinistra verso destra in questa 80 qui allora aspettate un secondo che giro il lavoro perché sennò faccio un casino allora da sinistra verso destra nella 80 ok e tiriamo praticamente la 11 0 si va a incastrare qui in mezzo vedete è giusto per non lasciare proprio un buco enorme prendiamo un'altra 11 0 e rientriamo nella 80 qui sotto e anche nella perla ok tiriamo il filo in pratica le due 11 0 si sono piazzate qui in mezzo adesso stiamo uscendo da questa perla entriamo nella super duo del modulino precedente e continuiamo ad andarci inserire nel modulino quindi per la 80 perla e adesso ci andiamo a fare il nostro famoso giro di rinforzo quindi rientriamo in tutte le perline per tutto il giro completo quindi qui rientriamo perla 80 perla rientriamo nella super duo ok rientriamo qui nelle perle sul lato quindi perla 80 perla rientriamo nella super duo e rientriamo nella super duo e rientriamo in perla e rientriamo anche qui nella perla 80 perla in pratica non andiamo più a passare dove abbiamo inserito le 11 0 ma tiriamo dritto senza fare più il giro delle 11 0 che abbiamo messo prima ora non ci resta altro da fare che fare un paio di nodini in maniera che il modulino si blocchi e poi andiamo a fare insieme il resto allora siamo all'ultimo modulino cosa c'è di diverso dagli altri non dobbiamo mettere nessuna super duo infatti adesso finito di rinforzare la parte centrale entro nella 80 e in una perla e mi attacco direttamente come abbiamo visto prima al modulino precedente quindi in questo modo qua vado mettermi le mie 11 0 vado praticamente a rifare i passaggi che vi ho fatto vedere prima quindi entro qui nel 80 è un po scomodo da entrare perché ovviamente nel modulino prima avevamo già fatto tutti i nostri passaggini vari di rinforzo e quindi rimane un pochettino più intoppata la perlina prendiamo l'altra 11 0 entriamo nella 8 e nella perla da 4 io spero che si vede perché vedo un ciuffolo entriamo nel super duo ok entriamo qui di fianco e come vi dicevo prima per il modulino iniziale qui andiamo a metterci 11 0 entriamo nella perla e nella 80 ci facciamo il nostro cappiettino dove poi andiamo attaccare la chiusura io lo faccio con 6 11 0 voi fatelo come più vi è comodo e magari avete un altro sistema per farlo l'importante che come sappiamo tutte venga poi rinforzato a dovere ecco io parlo e invece di metterne 6 ne ho messe 5 ma fa lo stesso quindi adesso andiamo a ripassare all'interno di queste perline che abbiamo messo in questo modo ci rinforziamo il nostro del cappiettino tiriamo bene il filo passiamo la 80 e la perla ci mettiamo nell'angolino con 11 0 e andiamo a finire il nostro giro di rinforzo faccio il giro di rinforzo e poi andiamo a fare insieme alla decorazione laterale allora adesso qui il bracciale e in una versione molto ridotta diciamo che per una misura normale da donna qui siamo a 14 ogni modulino e circa un centimetro e mezzo quindi ci andrebbero ancora almeno un paio di modulini io qui ho fatto la versione bambola in pratica ma era giusto per farvi vedere la lavorazione e i vari passaggi per riuscire a riprodurlo allora io mi sono attaccata con un filo nuovo in questo punto qua tra questa 80 e la perla la decorazione sarà una cosa molto molto semplice quindi io adesso cerco di andarmi a inserire nella perla e nella 11 0 senza bucarmi un dito magari che sarebbe meglio allora tiriamo il nostro filo senza farlo impigliare da nessuna parte andiamo qui e con le nostre 15 0 andiamo semplicemente a fare degli archetti allora sulla perla io li faccio da 5 quindi prendo 5 15 0 entro nella 80 ok filo capriccioso stasera altre 5 15 0 e da sotto verso sopra mi vado a inserire nel foro della super duo ok quindi sto uscendo dalla 80 e vado a inserirmi in questo modo e così ho fatto l'altro archetto praticamente ho detto una stupidaggine scusate torniamo fuori da sopra verso sotto perché sono l'archetto rimane un po smonco qui passiamo nell'altro foro della super duo prendiamo una 15 1 11 e una 15 ci facciamo un po di spazietto e ripassiamo all'interno qui della super duo ok riusciamo da questo foro solo dalla super duo senza entrare nella 15 0 ok e facciamo praticamente questi due passaggi da entrambi i lati del bracciale quindi di nuovo l'archetto da 5 tra sopra le perle in pratica ok un archetto da 5 l'altro archetto da 5 1 2 3 4 5 entriamo nel super duo da sotto usciamo dall'altro foro della super duo con lago una 15 1 11 e una 15 rientriamo nel super duo tiriamo e torniamo su solo dal foro della super duo senza entrare nella 15 0 e proseguiamo ci ritroviamo poi qui alla fine del giro ma tanto praticamente attraversiamo la 11 queste perle la 11 da qui riprendiamo a fare la stessa cosa che abbiamo fatto su questo lato e poi andiamo ad aggiungere ancora una cosa allora per non stare a sciupare filo e via dicendo perché tanto questo bracciale poi visto comunque la misura micro che ho fatto dovrò poi andare a smontare una parte ho fatto la decorazione solo su un lato però voi fatela da tutte e due una volta che avete fatto la decorazione degli archetti da tutte e due le parti cosa facciamo allora rientriamo in un archetto da 5 15 0 quindi quelli sopra la perla entriamo in tutte e cinque le 15 0 ok prendiamo una 80 e ci andiamo a inserire nell'archetto da 5 15 0 successivo ok e queste sono le 5 sopra la perla poi entriamo nella 15 0 dell'archetto sopra la super duo saltiamo la 11 ed entriamo nella 15 0 quindi questo gli facciamo proprio passare il filo davanti quindi sempre in modo da accentuare un po e praticamente si vanno ad unire di più gli archetti e le cuciture sotto delle giunzioni non si vede assolutamente più niente facciamone ancora uno insieme entriamo nelle 15 0 sopra la perla in tutte e cinque ok ciao posso fare giuro è che le 15 0 quando ci devi ripassare dentro un pochettino di volte è sempre un po problematica una 80 e entriamo in tutte e cinque le 15 0 dell'archetto successivo in questo modo poi entriamo nella 15 dell'archetto questo qui ok saltiamo la 11 entriamo nella 15 qui tiriamo bene il nostro filo e proseguiamo così per tutto il giro ed ecco qua questo è l'effetto finale della decorazione che abbiamo fatto sul bordo come vi dicevo non sono stata a completarlo tutto perché tanto dovrò poi modificarne la misura le dimensioni perché sennò veramente di queste dimensioni penso che ci sta un bambolotto però era per potervi far vedere il modello finito da questa parte si va ad agganciare o direttamente con il moschettone o si mette l'anellino e in questa versione mignon praticamente è il progetto che volevo condividere con voi ovviamente nell'infobox metterò il link del sito della bb craft vi metterò anche il link dove se avete almeno 100 iscritti al canale potete avviare una collaborazione con l'azienda scrivendo nei contatti di riferimento che vi metterò appunto nell'info box vi metterò il link delle perle da quattro che sono in pietra dura sfaccettata che io appunto avevo preso da loro con per la collaborazione vi mando un abbraccio grande 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 a tutti piano piano stiamo continuando a crescere insieme vi metterò anche nell'info box il mio contatto del profilo tik tok ho aperto da poco dove anche lì condivido le mie creazioni se il video vi è piaciuto mi raccomando lasciate un like se non l'avete ancora fatto e avete piacere di farlo iscrivetevi al canale condividete e niente ci rivediamo presto e sicuramente prima di natale ci vediamo ancora anche perché voglio poi farvi gli auguri come si deve buona serata a tutte e grazie mille per tenermi compagnia